quella la potrebbe essere la parte finale della drap ma quella lì è un'altra cella perchè l'ho vista prima guarda com'è bella striata, è allungata di brutto questa qua questa qui è un'altra cella che si è formata, minchia guarda la sotto cazzarola minchia non riesco a metterla giustissima anche se non è proprio centrativa si 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 guarda la vedi mammatos ormai stai tra un po' arriverà una minchia una oh guardate quell'inflow tail quella specie di guarda come sale poco due se c'era una possibilità di visualizzarla perchè ha cambiato direzione bello ho permesso di andare verso nord est e sceso giù verso il valle credite e difatti guarda cosa sta facendo minchia la c'è un down draft ragazzi oh ci siamo risvegliati all'alba del nuovo io ero lì e dicevo ma cazzo tu la parla io la stavo guardando quella quella cella lì e dicevo ma cazzo ma sta cambiando tutto non è vero la stavo guardando noi no la stavo guardando anch'io ma se volevi andare a mangiarti di spaghetti in autostrada quello è vero quello è vero una bella spaghettata ma sai che bello una bella spaghettata adesso ti mettevi più bello tranquillo che bello mi chiamala spara fuori verso di là mi chiamala che disco che disco volante enorme poco due ma guarda da dove arriva guarda da che parte mi chiamala arriva giù di lì e la in fondo la guarda tutte quelle modi mosse la voglia che c'è un sacco di vento è tirato di brutto verso nord est anche con la castriatura questa è una bella scelta eh cioè mancano aspetta aspetta mancano ancora i fractus di base quelli che fanno per adesso ancora alta oh considerate le aspettative eh ringraziamo la natura perché questa stava andando verso le montagne alte eh e dopo hai detto no quei poveri cristi là sono la vado giù va tra l'altro sembra che si stia allungando un pelo verso sud est ho sbaglio si viene avanti così in questo momento sembra che venga avanti così abbiamo proprio di fronte il giorno si minca ma ragazzi che visuale vi ho dato cioè prato di foraggio è il massimo direi si si meglio di così con tutto il mais che c'è qui in zona eh bella dai bella bella Andre guarda che info ecco la tu con la videocamera noi ne inquadriamo metà eh si e no qua ci vuole un grandangolo alla Sirio per esatto per prenderlo tutto però è giusto inquadrarla lì perché vedi che lì alla Sirio questa è l'area delle precipitazioni lì probabilmente la base dell'updraft c'era lì esatto si si è lì l'updraft l'ho visto prima e sul lato sinistro figa ma che bella oh cioè all'improvviso eh bisogna essere generosi proprio bella ragazzi cioè questa è un'onda vecchio stampo si 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 questa è quella quando le chiamavo io onde nere cioè poi con questa struttura in mezzo rende tutto più figo figa è la com'è che si dice qui poi con bouga facciosa Stai impegnandosi qui Praticamente è sempre Chef Claude Cazzo ci siamo persi il momento Il momento più bello era qualche secondo fa Che ci siamo Troppo maes ragazzi Troppo Meno male qua c'è uno spezzo di Mi sono fidato dall'istinto Mi butto qua dentro Tipo twister Qualcosa dovrà succedere Qualcosa dovrà succedere I colori sono Minchia devo mettere la macchina Bellissimo Bello sì Volto turbolento direi Sì 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 All'interno del downbraft non si vede niente sta andando a 60 all'ora non si vede spettacolo 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 non si vede spettacolo